Buongiorno cari ascoltatori, benvenuti alla seconda puntata del podcast Falafassio Italiano. Oggi andiamo a Venezia. In 25 anni d'Italia sono stata a Venezia circa 10 volte. Se mi ricordo bene, quattro volte ero in compagnia di persone che non c'erano mai state. È bellissimo vedere negli occhi lo stupore per la bellezza di questa città nel vederla per la prima volta. Per chi non c'è mai stato, conosce la fama di Venezia per essere molto romantica. E di fatto lo è. Una volta sono salita su una gondola. Ed è stato meraviglioso. Il gondoliere ci portava per i canali minuscoli sotto i ponticelli e faceva le curve senza timore di sbagliare. A volte mi sentivo in uno di quei film d'azione dove una gondola si incrocia con un'altra e per poco non si toccano mentre si sorpassano. Mi ricordo ancora che avevo il cuore in gola. La piazza San Marco Una delle più belle e famose al mondo Era piena di turisti che passeggiavano i bar eleganti con i suoi tavolini all'esterno Coperti con tovaglie bianche, a volte gialle. Erano forniti da camerieri esperti e svegli, sempre pronti per accogliere i turisti nel miglior modo possibile. E chissà, ricevere una bella mancia dai clienti. Passeggiando per i vari canali attraversando i ponticelli, siamo arrivati al centro, dove i negozi più eleganti si concentrano. Fare shopping a Venezia è un'esperienza indimenticabile, che sia un souvenir o un pensiero per qualcuno che ci tieni oppure un oggetto per te stesso avrai sempre nella memoria. Questo l'ho comprato a Venezia. Come ricordo di Venezia, devi avere anche tante foto, mi raccomando. Già, perché non puoi andare a Venezia e non sentirti costretto a scattare una foto in ogni angolo che passi. E già, è stato proprio così con me. Perché ogni viuzza porta una sorpresa. A volte una fontana, altre una piazzetta che non avevi ancora visto, o una chiesa a porte aperte pronta per essere visitata. E che dire del cibo? Dovete assolutamente assaggiare i piatti tipici veneziani. Molti di questi piatti sono a base di pesce. Ma chi non è amante del pesce, ci sono anche opzioni con la carne naturalmente. Molte delle tradizioni culinarie si possono assaggiare ancora oggi in alcuni ristoranti e nei tradizionali bacari. Sono antiche osterie veneziane dove si mangia benissimo. I posti migliori da scegliere per andare a mangiare sono lontani dalla piazza principale. Perché? Di solito i posti più lontani dal centro sono meno turistici e si mangia meglio ad un prezzo più contenuto. Anche se dobbiamo dire che Venezia è tutta turistica. Tenetevi in mente questa regola quando andrete a mangiare in altre città italiane. Quando invece volete prendere solo un caffè e trascorrere un po' di tempo seduti per riposarvi un po' o per apprezzare il paesaggio, dovete assolutamente prenderlo in piazza San Marco. Io l'ho fatto e non mi pento, ma preparatevi ai prezzi molto salati. Tuttavia, se sarà il vostro ultimo caffè a Venezia, sarà senz'altro un bel modo di salutare questa affascinante città prima di andare via. E voi, siete mai stati a Venezia? Quando ci andrete, non dimenticatevi di fare un giro in gondola, di assaggiare il baccalà mantecato accompagnato da uno spritz. Ho un prosecco frizzante e fare tante tante foto e anche video da portare questa esperienza nei vostri ricordi per sempre, così come l'ho fatto io. Un grande saluto, cari amici! Ci vediamo alla prossima puntata di Falafassio Italiano. E per chi volesse seguirmi anche sui social, trovatemi su Facebook e Instagram. Falafassio Italiano, Inglês e Português. A presto!